ciao ragazzi bentornati eccoci con la terza parte di yakuza kiwami allora adesso dovremmo andare a consegnare la valigetta giusto fatemi uscire c'è l'uscita ma perché io ero davanti a quella porta e non posso mica interagire vabbè dettagli che andiamo qui vediamo dov'è la destinazione a che non è molto lontano dai permesso che vorrei presentarti qualcuno dice che è praticamente un giovane giornalista con l'ultimo giusto ok praticamente il tipo vendere informazioni al giornalista qualsiasi news insomma possibile ok vorrei qualcosa da prendere qualcosa da bene al serena ma sono ancora chiusi vabbè non mi inderezza oh ecco di qui come sa signora bene grazie ok shintaro kazama il patriarca della famiglia della yakuza che questo è il capitano della yakuza ok ok praticamente ha detto a kiryu di non spingersi spingersi troppo oltre altrimenti appunto i suoi sottoposti faranno altrettanto diventando insomma degli stronzetti ok 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 quentin ok qui Grazie a tutti. Grazie a tutti. A salvarla da sola, comunque ci sta andando. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non gli ha dato ascolto, gli ha detto che sono la sua famiglia e che deve fare qualcosa a tutti i costi. Andiamo, andiamo. Madonna, sto sudando. Vorrei un po' di pioggia anche qui per piacere. Non si può? Chiaro ci farò restituire quei soldi. Kiryu ovviamente gli risponde che va di fretta. Dopo che mi ha rovinato non posso star fermo a non fare nulla. Ok, non è uscirai vivo, preparati a morire stronzo. Vabbè, scazzottata. Numero... 9999. Praticamente il suo tipo non è abbastanza, vuole crepare a tutti i costi. Che sireo, non mi piace. Ok. Ok. Vi e qua. Un certo... Sì, di questo, questo, questo e pure questo. Così si parava. Ok. Daieee, maronna. Diciamo che io ho fatto un pochino male, ma ancora non è abbastanza, ovviamente. Couch. E muori. Non credo sia morto, ma comunque... Ancora non hanno capito che con me non si può scherzare, non si deve scherzare. Però insomma, la gente a quanto pare ha voglia di suicidarsi e viene a rompermi le scatole. Dice che hanno sentito uno sparo dall'appartamento qui vicino. Ehm, no, credo sia... Nooo... Mi sa che è questo... Nooo... Daiee! Mi ho permesso... Eh, vado di presto. Mi sa che qui torniamo alla parte iniziale del gioco. Ecco... Ecco come è iniziato. Oh, cazzo. Agira a quanto pare ha ucciso il boss, Dojima. Il patriarca, ecco. Dice che praticamente... Quanto pare stava stuprando lei, comunque. Dice che ha perso il controllo e gli ha sparato. Ehm... 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 Andiamo! Andiamo! Sì Chiama ancora l'esercizio. Ovviamente Kiryu sta mentendo. Ok, il tipo dice che è meglio finirla qui e non stavare oltre perché appunto non fare l'interno della Yakuza. Ed è meglio finirla qui. E l'interno della Yakuza. Buono Kiryu Ok una visita Vediamo chi è andato a fargli visita Vediamo chi è andato Vediamo chi è andato Ok praticamente Ovviamente vogliono Mandare via Togliere Azzo Kazuha dalla famiglia della Yakuza Poi Shinji Ha riferito A Kiryu Che Yumi Non ricordava più nulla Praticamente Né di lui Né dell'amico Akira Akira Se non sbaglio Si chiama l'amico E che è scomparsa Il giorno dopo Dall'ospedale Che è tuttora dispersa E che la stanno cercando appunto Adesso Che Ah! Tocco! Nani atto l'arrivo? Nanda io! Hanno secco no, ero! Uffi! Voi! Allora! Tocco... Vutassou de ike nè na... Oっと... Quotra san mo vutassou na tura stara... Na, aintadaro... Zibun no ebun,殺した, te yakuza... Tama te kutte lo... Sassuaga, Karneluk da ne... Dojima no Ryu, Dojima Gumi Shatee Gashirahosa, Kiryu Kazuma. Ennesima Rissa. Ennesima gente che si vuole suicidare, apparentemente. Dice di portare i suoi saluti a Dojima all'inferno. Certo, vedremo chi porterà i saluti a Kiki. Daie! Sì, di questo è pure Wesh, lo stronzetto. Non si è detto nessuno che non si gioca con le posate a tavola? Mh? E' maleducazione. Gah, penso di avergli spettato la colonna vertebrale. Nooo, ho sbagliato, non sapevo. Vabbè, adesso lo so, magari la prossima volta. Ma questo si fa a menare proprio, cioè, è proprio un imbecille. Chi è che doveva portare i saluti? Ho so, allora. Ho so. Ho so, ho so. chi ti ha dato quest'ordine? sera vuoi salvare? si direi di si ancora non ho capito come è composta questa piramide del comando della Yakuza a quanto ho capito Dojima era il capo assoluto e adesso è preso il posto l'altro capo che parlava prima con Kiryu ok uno di loro non se la sta bevendo che Kiryu ha ammattato il borso appunto come farà la sistemare uto questo non ho visto che Kiryu è il suo favorito eh ok non ho capito non ho capito non ho capito No, se volessi a prenderlo, se volessi a prenderlo anche se volessi a prenderlo. Oh, è vero. Adesso dovessi prenderlo in un'acqua? No, non è vero! Non è vero! Non è vero, non è vero. Che cosa vuoi fare? Ok, il tipetto diceva appunto che se in realtà il colpevole fosse Akira sarebbe tutto più facile. Ma quell'altro diceva come è possibile, visto che Kiryu è stato beccato con le mani nel sacco e quindi si è incazzato. Ovviamente c'era Akira ad origliare e mi sa che è rimasto un pochettino sconvolto. Qualche sospetto sta ricadendo tutti voi. Bravo, non si picchino le donne, stronzo. Credeva che lei stesse dando dell'inutile e quindi l'ha schiappeggiata del buona a nulla. Eh, effettivamente se ti chiede le donne sei abbastanza buona a nulla. Coglioncello. Capitolo 2, ok. Mi sa che sono passati un po' di anni. Era il 98, prima è ambientato il 98. Quindi sono passati sette anni. Forse Kiryu nel frattempo è uscito di prigione. Vediamo. A quanto pare no. Ah guarda, un'altra volta la capigliatura Fashion. C'è la posta da lui. Quanto pare sarà dimesso l'indomani. Oias. L'indomani. Nel frattempo di Qui sia la patriarca della Shimano Family? Sono troppi tizi da ricordare, ragazzi, io sto già facendo confusione Sì, perché c'è una scuola di rinforzare, non c'è una scuola di rinforzare sono stati rubati 10 giorni Pobilioni Non ho letto bene Ok, cos'è il terzo presidente? Ecco, 10 milioni Ma devi sentirei così! Dov'e 3. Dov'e 3. Dov'e 3? Suc two per. Suc one per... Suc two per... 10 anni Grazie mille Vieni a parlare di un uomo di un uomo di Tazuki. Mi raccomando. Kazama Shintaro. Ok, andiamo a cercare l'informatore. Vediamo cosa c'è da fare, ma dice che posso anche migliorare le mie abilità. Quindi devo reimparare lo stile Dojima? Vabbè. Ecco, queste sono le varie famiglie Dojima Femini, che è il boss che è stato ammazzato, praticamente vado da parte della famiglia Dojima. Il pirani Shikiyama è l'amico di Kiryu. Tojo Clan, se non sbaglio, è il mandante che ha cercato di farlo ammazzare in galera. Questo è il terzo presidente. La famiglia Kazama, della quale faceva parte Kiryu. Shimano è il coglione. Goro è quello che vuole affrontare Kiryu ad ogni incosso. Seren, invece, è il caffè. Comunque, il locale. Vabbè, continuiamo. Non posso interagire con i distributori, no? C'è qualcosa che sbrilloci da per terra adesso. Aspetta, cosa... Oh! Goro! Oh, sei davvero tu, lo sapevo. È passato di tempo. Ma è bello essere fuori. Ok, si vociferava che sarebbe ritornato e io appunto lo stavo attendendo. Ok, mi stai ricercando. Ma perché no? Ok, non ti avevo promesso che ti avrei controllato 24 ore al giorno? Eh, sì, ricordo che l'ho detto tanto tempo fa. Dice che era stato quasi tentato di seguirlo perché appunto era annoiato a morte qui fuori. Sì. Eh, sì. Eh, sì. Eh, sì. Eh, sì. Eh, sì. Ancora lo vuole affrontare, ma... Kiryu si scusa, ma non ha nessuna intenzione di affrontarlo qui. E appunto, mi ha detto tanto tempo fa che non l'avrebbe affrontato, ehm. Eh, tranne che è appunto... Senza una buona ragione, insomma. Eh. Mi ha detto che se l'avessi voluto, lo avrebbe già ammazzato. E lui dice, beh, non capisco come questo dovrebbe fornirmi una buona ragione per combattere. E lui dice che in questi giorni le cose sono fatte estremamente pericolose e un cretino che è stato via per anni non può andare in giro a fare quello che vuole. Ok, sto dicendo di dimostrargli che non è un pappamolle. Che non è diventato... Mi si è indebolito col tempo. Ok. Appanchiamo, Goro. Maronna, Goro! Ma che cazzo sei, Maverick? Guardate la mia energia. Sono diventato un spettinetto veramente, mi sa. colour, eh, pot additional- sshhhh. Ma non posso fare niente! Sshhh فسورة Fa, a wow fotografico M Society M Society It's all Vabbè io sono incapace però insomma mi sembra un quanto impossibile. Cioè non giriamo un cavolo, non giriamo. E' un po' un po' scriptale per la Fiatara. Questi ultimi dieci anni ovviamente lo hanno arrugito Ok diciamo che non ha più potenza, non ha più tecnica Dice che solamente una cosa non ha perso in tutto questo tempo Questo sguardo Dice di ricordare le sue parole che praticamente tornerà ad essere quello di una volta anzi anche migliore Non c'è la tua parte, non c'è la tua parte Non c'è la tua parte, non c'è la tua parte E se non c'è una volta, non c'è la tua parte E se non c'è la tua parte, non c'è la tua parte Ok, abbiamo capito praticamente che Ryu deve allenarsi nuovamente per tornare in forma Ok, dice che posso acquisire questi punti Esperienza sconfiggendo gli nemici Cioè sconfiggendo gli nemici Mangiando cibo al ristorante, bevendo al bar Oppure completando il mini quest Cioè side quest Ok Il dragone di Dojima invece non può essere riacquisito con i punti esperienza Ma invece posso riacquistare queste skills in battaglia contro Majima Che mi attaccherà in vari punti della città Ok, dice appunto di prepararmi, di portare oggetti curativi e armi Perchè gli incontri, anzi gli scontri con Goro sono casuali E possono avvenire in qualsiasi momento appunto della città Questa è una scena del crimine, ok Ok, allora Non deve andare qui Adesso Qui dentro cosa c'è? Compriamoci qualche cosina Si? Inventario Oh, il bento Su, scesato Si, primo passo Prendiamo questo Prendiamo questo Si ma Facciamo così Miso ramen Foyuramen Wakame ramen Ovviamente il mio accento è errato, già lo so Quindi non fate gli esperti, mi raccomando Mmm Che belle riviste Ciao tipo E quale prendo? Uno shonen Ok Ok Un settimanale Manca Per ragazzi Pubblicato dalla Kodansha Vabbè Famitsu Un giornale di videogiochi Un giornale di videogiochi Quest'altro Mi sto dando solamente un'occhia delle cose per vedere le copertine, ma voglio continuare la missione. Bella che cosa era, no? Tutututututututu, vabbè ma ancora vai. No. Ma che è il Natale? Tututututututu. Puoi questo vuole morire? Tutto mi ha visto prima cosa pensi di fare, che non sono affari suoi. Sto cercando il tuo mura. Dice che non l'aveva data qualche tempo. Ok, allora a quanto pare abbiamo finito qui. È più tardi. Cosa vuoi da Tamura? Beh, se pareva. Mi scusa è buona per combattere, ma non c'è il lotto dei nemici? E ancora devo fare pratica. Che fa stronzo? No Bastardo Miglio di una mignotta Alzati, alzati, alzati Si puoi, vuoi Si puoi.. Si puoi Il Mi 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 Oh Altati 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 Ho detto via qua che io devo dire a schiaffi Ok 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 Vai che piano piano ci prende la mano Torte Mi sta facendo sudare ciccio Eh Ciccio Ok 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 Oh Finalmente È muoruto Cioè non è morto però appunto l'ho sconfitto Oh Hai vinto Che cavolo sei E meglio se non lo sai Ad ogni modo che Qual è il tuo problema dimmi Eh sto solamente seguendo degli ordini Il boss mi ha detto di tenerti d'occhio Il boss mi ha detto di tenerti d'occhio Eh Vedi c'è stato un omicidio oggi Quindi dovrei tenere d'occhio chiunque Sembra sospetto Ma capisco bene Ma capisco bene In questo caso Non dovreste almeno Ma che non dovreste almeno sapere qualche informazione Ok 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 Gli ho chiesto se sa Degli informatori Negli intorni E Appunto lo sa Lo sta mettendo al corrente Dei tipi C'è che da queste parti C'è Aoki Un giornalista Credo di averlo visto A Theater Square Ok Ok Ma Ha ricevuto Cerca di stare fuori da guai Per il tuo bene Benissimo Benissimo Direi di fermarci qui Abbiamo registrato un pochino E di continuare E di continuare Nel prossimo episodio Andiamo a far visita a questo Aoki Di questo giornalista Un saluto Alla prossima Un saluto Un saluto Un saluto Un saluto Un saluto